Diamo il buon pomeriggio a Dines Sanardini, vice procuratore onorario presso la procura di fermo e coordinatrice della Federmott Marche. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, dottor Mantignoni. Grazie dell'invito. Allora, tra l'altro nelle scorse ore, non nei giorni scorsi, ma dipende insomma dalla cognizione del tempo che si ha, il guarda sigilli Alfonso Bonafede ha detto facciamo ripartire la giustizia. Questo dopo un faccia a faccia con l'Avvocatura e l'Associazione Nazionale Magistrati. Ha sottolineato, evidenza oggettiva e sanitaria, che la situazione della curva epidemiologica è molto tendente verso il basso, dunque i contagi si stanno riducendo moltissimo e dice quindi deve ripartire l'attività giudiziaria. Nello stesso tempo però parte dell'Avvocatura, gli avvocati nello specifico della mezza termine, hanno avuto modo di dire, guardi Ministro, che la nostra fase di tolleranza a zero è ormai molto molto vicina. È vero, effettivamente è verissimo perché un conto è dire certe cose, fare queste dichiarazioni, un conto invece viverle e lavorare ogni giorno con tribunali che invece sono assolutamente ancora inaccessibili. Quindi parlare di ripresa della giustizia, quando in realtà, almeno parlo nelle Marche, ma ho sentito anche altre interviste in tutta Italia, comunque nelle Marche i tribunali sono di fatto inaccessibili, solo su prenotazioni, per accessi alle cancellerie, ma soprattutto è inaccessibile ed è difficile lo svolgimento delle udienze. Cioè noi ci troviamo già solo a livello regionale con una situazione molto diversificata, perché da marzo, dottor Mattiglioni, praticamente noi assistiamo a un proliferare di protocolli giudiziali, protocolli sullo svolgimento, sulle modalità di svolgimento delle udienze. E già nelle sole Marche abbiamo una differenza tra nord e sud, tra Pesaro-Urbino e dall'altra parte Ancona, Macerata, Ascoli e Fermo, sono sei tribunali da noi, con modalità di svolgimento proprio diverse. A nord, Pesaro-Urbino, di regola, lo svolgimento dell'udienza è da remoto, quindi significa che il tribunale è assolutamente chiuso, ma spesso anche agli stessi operatori, gli viceprocuratori, non entrano all'interno del tribunale, svolgono le udienze anche dal proprio ufficio, da casa. Da noi, diciamo nella parte sud, ma partiamo anche da Ancona, Ancona-Macerata, lo svolgimento di regola è in udienza, ma che cosa si fa in udienza? Alla fine non si fa nulla, siamo in una situazione di stallo, perché stiamo ultimando i vecchi processi, ma andiamo in discussione, chiudiamo le cause e i procedimenti iniziati, però non riusciamo a trattare nulla. Parlo del penale in particolare, essendo viceprocuratore onorario, le posso dire che tutti i procedimenti con i testimoni non vengono assolutamente trattati e sono rinviati oramai alla fine dell'anno 2020, ma molto anche nel 2021, poi dipende dai singoli tribunali, però abbiamo proprio un anno completamente privo di attività sostanziale. Il problema è che non è un anno sabbatico per la giustizia in generale, soprattutto per l'attesa di certezza dei tempi di giustizia del cittadino. Cioè nel senso che il cittadino ha bisogno di risposte, non possiamo permetterci Covid o non Covid di avere una totale assenza di risposte rispetto alle esigenze di richiesta dei cittadini. Ma certo, se non si parte poi da una ripresa dell'attività giudiziaria a ritmo, tra l'altro serrato e pieno, e così non è, non è possibile parlare di un'economia che si può muovere, perché qui non parliamo assolutamente di tempi rapidi e celeri della giustizia. Già subivamo noi un ritardo maturato anche col sisma, perché non dimentichiamo che le Marche, almeno tutta la zona del Maceratese, dell'Ascolano, è stata ferma, sono stati immobilizzati per 6-7 mesi, anche di più, proprio per via del sisma. Quindi c'è stato proprio un rinvio di tutte le udienze. Adesso accumuliamo ulteriori ritardi dovuti anche a questo, al Covid. Ma non è giustificato e giustificabile perché assistiamo da tutte le altre parti una ripresa, aperture di negozi, di bar, e invece i tribunali sono inaccessibili. Noi prenotiamo ogni cosa, ogni accesso al tribunale in cancelleria deve essere prenotato, una notifica deve essere prenotato con tempi biblici per noi, perché mentre un avvocato si poteva recare prima in tribunale e fare 10 adempimenti contemporaneamente, adesso ne può fare almeno uno, solo uno, prenotandolo molto tempo prima. Le udienze sono fatte, le dicevo, oltre che da remoto, ma sono poche. Cioè noi trattiamo poche udienze, da 40 fascicoli che venivano trattati, adesso ne trattiamo a malapena 4-5. Ma lo sa perché questo, vice-propuratore, lo sa perché le dico questo? Perché questo cittadino, medio, almeno non si batta in un problema di giustizia contingente, non lo sa, perché sui giornali vanno a finire i titoli facciamo ripartire la giustizia, come se far ripartire dalla giustizia fosse una responsabilità degli attori protagonisti e non di decisioni che stanno a monte, ossia io per monte intendo il ministero. Il problema è che qui si sta portando avanti un paese con slogan, con parole che fanno il titolone, ma non fanno sostanza. Ma certo, sono perfettamente d'accordo. Perché? Perché il cittadino parla sostanzialmente con un avvocato e quindi avere a che fare con la giustizia e quindi lavorare, entrare dentro un tribunale, questo lo può sapere soltanto chi ci opera. Lei consideri soltanto che i cancellieri non hanno neanche lo lavoro agile, quindi loro possono lavorare esclusivamente all'interno del tribunale. Che cosa stanno facendo da mesi a questa parte? Soltanto ad impimenti e rinvii, non si trattano i processi, le cause civili sono tutte a trattazione scritta, quelle possibili, le altre vengono tutte rinviate. Cioè noi assistiamo proprio a un blocco totale e questo lo sappiamo solo noi, perché prenotare ogni singolo ad impimento che devi fare lo può sapere l'avvocato, ma tra l'altro è stato tutto rimesso ai singoli capi degli uffici, perché poi dopo i primi due decreti il ministro ha rimesso direttamente ai capi degli uffici le modalità organizzative delle udienze. Questo ha comportato un proliferare di protocolli e di una disomogeneità a livello territoriale incredibile, con ritardi ovviamente conseguenti anche tra le stesse regioni e all'interno, della stessa regione e tra i vari tribunali. E come infatti lei ci spiegava la differenza che può esistere tra Fermo, Ascoli e Ancona? Ma le dico, noi abbiamo Teramo, noi abbiamo anche Teramo vicino, quindi anche un'altra regione, un tribunale completamente chiuso che ha altri protocolli. Quindi le dico che anche noi operatori non li conosciamo, perché di volta in volta dobbiamo verificare quello che possiamo fare. Quindi è un ritardo incredibile, si lavora così a stenti. Guardi, a Napoli tra l'altro, proprio notizia di oggi, data dal quotidiano il mattino, gli avvocati sono letteralmente sul piede di guerra perché sottolineano cosa oggettiva ed evidente come i giudici di pace, la giustizia amministrata, che è una fetta enorme dai giudici di pace a Napoli, sia totalmente bloccata, sia totalmente paralizzata. Sì, è vero, anche da noi i giudici di pace sono completamente, il penale è rinviato completamente in blocco, riescono a fare forse qualcosa di civile, ma a trattazione scritta, cioè proprio l'ufficio è chiuso, il penale, le udienze penali già da marzo vengono rinviate a fine anno nei casi migliori, altrimenti parliamo già di 2021. Quindi è un'organizzazione della giustizia lasciata veramente quasi alla casualità perché non può essere, non si può andare avanti diciamo così, non si può dare una risposta al cittadino immediata, né si può dare una risposta pensando di fare un indulto, un'amnistia e quindi non fare alcun processo. Questo non è giusto, ma così come nel penale si era abbalenata anche l'idea della prescrizione e di abolire la prescrizione, non mi trovo perfettamente, assolutamente d'accordo perché ovviamente questo significherebbe anche qui tenere un imputato o una persona offesa a tempo indeterminato sotto un procedimento che non si sa quando finirà e con quali esiti, passando da magistrato a magistrato, considerando anche i tempi, quindi si cambiano anche i magistrati nel frattempo. Non è nemmeno una gestione artigianale, guardi della giustizia, non ve dico professionale, nemmeno artigianale, francamente come vi ho detto prima e confermo una giustizia amministrata ricorrendo sempre allo slogan quotidiano, il problema non è sempre degli altri, la responsabilità non può ricadere sul singolo, che ci mette tanta buona volontà, ma non può risolvere i problemi che devono essere risolti a livello nazionale e ministeriale. E in maniera unitaria? Assolutamente, 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 in maniera unitaria anche perché la disomogeneità ormai è sotto gli occhi di tutti, non solo tra regioni come lei diceva, Nardini, ma proprio tra provincia e provincia, tra uffici giudiziari e l'altro, questo non può essere certo andare a garanzia dei diritti di difesa di un cittadino. Noi la ringraziamo Ines Nardini, vice procuratore onorario presso la procura di fermo e coordinatrice di Federmott Marche. Grazie sempre per parlare con voi magistrati in orario. Buona giornata. Arrivederci, buonasera.